carissimi amici del canale youtube dentro la notizia oggi giornata ricchissima di eventi sia al senato che per quanto riguarda le nomine dell'unione europea inoltre se mi seguirete fino alla fine ci saranno interessanti considerazioni riguardo le probabilità di cambiare le cose in europa fattore questo che credo stia a cuore un po a tutti chi in un modo chi in un altro partiamo con le rivelazioni si fa per dire di giorgetti sulla causa della crisi queste le sue parole ora ce l'hanno tutti con lui ma salvini era l'unico che voleva andare avanti mentre tutti noi gli chiedevamo di rompere tutti avrebbero rotto mentre lui è rimasto leale fino alla fine anche con di maio e lo dicono i fatti in sostanza le rivelazioni di giorgetti riportano fatti già noti è da tempo che si narra di pressioni dei leghisti su salvini perché staccasse la spina vista la difficoltà con cui procedeva l'azione di governo per i tanti no del movimento questo secondo la narrativa leghista queste le inquietanti dichiarazioni di vittorio sgarbi al termine del dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del presidente del consiglio giuseppe conte è tempo di grandi padri e di elevati maestri questo il governo grillo renzi quando piero piccioni fu accusato del delitto montesi il padre il ministro attilio piccioni si dimise quando invece il figlio dell'elevato grillo è stato accusato di stupro grillo ha fatto di maio ministro degli esteri cercando la copertura del pd che controlla i giudici come si è visto bene con il caso palamara grillo si è agitato come un ossesso per fare un governo amico con il nemico renzi ha rinnegato il suo movimento arroccandosi nel palazzo con assoluta spudoratezza e con il sostegno dei parlamentari terrorizzati di perdere il seggio dopo aver acceso il mutuo per comprare la casa non c'è alcun rispetto per gli elettori ma su di loro pesa come un macigno la riflessione di paolo borsellino la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo ma il cambiamento si fa con il voto nelle cabine elettorali nel suo intervento in senato matteo salvini ha fatto un accenno alla notizia che riguarda i cinque indagati dell'inchiesta angeli demoni sugli affidi in valdenza fra cui il sindaco di bibiano andrea carletti con l'accusa di abuso d'ufficio il pm ha presentato ricorso su una vicenda relativa a una serie di incarichi di difesa nei minori in affido per questi cinque indagati erano infatti già stati chiesti gli arresti domiciliari a giugno ma il gip aveva detto di no quindi la decisione è stata adesso impugnata la senatrice vita liliana segre durante il dibattito sulla fiducia al conte bis al senato ha espresso questa dichiarazione mi accingo a esprimere fiduciosa la fiducia a questo governo vorrei che questo governo nascesse dalla consapevolezza di uno scampato pericolo dal senso di sollievo dopo che si è giunti sull'orlo di un precipizio e ci si ritrae in tempo occorre ripristinare un terreno di valori condiviso nella difesa costante della democrazia e dei principi di solidarietà nati dalla costituzione e dalla resistenza difesa della democrazia impedendo agli italiani di votare voi cosa pensate fatto il governo giallorosso ecco che la germania e l'europa cambiano idea non si cambieranno più i parametri di maastricht e anzi improvvisamente come per miracolo la germania non ha più bisogno di fare deficit queste le parole del vice ministro delle finanze tedesco jörg cookies intervenuto nel fine settimana scorso al forum ambrosetti di cernobbio non importa quanto belli siano il sole e il tempo qui non sentirete dirmi qualcosa di diverso rispetto al fatto che la posizione del governo tedesco sia la solidità fiscale il numero 2 di Olaf Scholz ha semmai aperto all'ipotesi che berlino possa stimolare l'economia con una politica fiscale più espansiva ma non ora bensì solo nel caso in cui le condizioni macro dovessero sostanzialmente deteriorarsi la von der leyen ha presentato oggi la sua squadra di 27 commissari 13 donne un record e alcune nomine mirate per mandare messaggi politici al continente europeo purtroppo come temevo ma non volevo sembrare pessimista non è iniziata per l'italia l'epoca dei rubinetti aperti perché anche se qualcuno vede positivamente la nomina di paolo gentiloni a commissario degli affari europei e in realtà così non è proprio bisogna considerare che valdis dombroskis controllerà da vicino il suo lavoro come vicepresidente esecutivo per l'economia quindi in sostanza bruxelles potrà dare tutta la flessibilità prevista dai trattati ma assolutamente non si deve parlare di una riforma dell'eurozona che cambi il patto di stabilità perché il falco dombroskis è fermamente contrario e così in sole 48 ore tutto è cambiato tutte le attese sono svanite nel nulla anche il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz ha cambiato idea e ha detto che la germania continuerà a rispettare il pareggio di bilancio fino al 2023 e il bilancio del 2020 non aumenterà la spesa o l'onere del debito in parole povere niente deficit e se la germania non fa deficit cade il presupposto per cambiare tutto a dare manforte ai tedeschi vi è un altro amico di soros l'ex cancelliere austriaco sebastian kurz una nostra vecchia conoscenza che ha minacciato l'italia respingiamo rigorosamente un ammorbidimento delle regole di maastricht come richiesto dall'italia non può diventare una seconda grecia non siamo pronti a pagare i debiti dell'italia anzi kurz ha detto che se proprio si dovranno modificare i trattati europei allora bisognerà inserire sanzioni in caso di violazioni delle norme il mancato rispetto delle norme sul debito deve comportare automaticamente sanzioni questo ha detto kurz e non è finita qui perché l'eurodeputato del ppe marcus ferber membro della commissione affari economici del parlamento europeo ha spiegato il senso della nomina di gentiloni durante la commissione juncker il patto di stabilità e crescita ha perso molta credibilità il fatto che ora un italiano sia incaricato della sorveglianza fiscale del disordine di bilancio dell'italia è tutt'altro che ideale paolo gentiloni deve dimostrare di essere risoluto quando si tratta di regole fiscali chiaro ora cosa ci aspetta come ricorderete vi ho parlato dello scoop del financial times che riportava l'esistenza di un piano tra le mani dei funzionari europei per semplificare le regole di bilancio della zona euro e allentare i vincoli di bilancio e questo aveva creato un clima di attesa fiduciosa speranza nel vedere un cambiamento all'interno dell'unione europea molti si erano convinti che le buone relazioni in europa di conte avrebbero portato ad ottenere quei cambiamenti che le maniere decise del precedente governo giallo verde non avevano ottenuto a illudere era stata anche la futura presidente della banca centrale europea christine lagarde che ha chiesto una riforma delle regole di bilancio per evitare la recessione anche il presidente della repubblica sergio mattarella aveva inviato un messaggio ai partecipanti al forum ambrosetti per cambiare il patto di stabilità e crescita e investire in infrastrutture innovazione ricerca ed educazione un appello a cui risposto subito il ministro delle finanze francese bruno lemer mattarella ha ragione tutto molto strano troppo strano e difatti come tutte le cose troppo belle per essere vere non sono vere però uno scopo l'hanno ottenuto far nascere questo governo lo spread è basso la borsa sale i mercati ci chiedono questo governo e ci tratteranno bene ce lo promettono fino a che fino a che è nato il governo che piace i mercati perché non cambierà nulla in europa ovviamente speriamo tutti che non sia così ma grande è in me il dubbio che i media mainstream in complicità con gli accoliti dell'elite abbiano sparso delle voci false per creare un clima favorevole all'alleanza giallorossa ovviamente ripeto spero di sbagliarmi e che si riescono a cambiare le cose e credo che qualcosa abbia intuito anche bagnai intervenendo oggi al senato pur non dicendolo espressamente notate cosa dice ai colleghi travagliati vorrei dire una cosa chi crede nel cambiamento non troverà spazio in un governo guidato da un uomo politico intelligente ambizioso spregiudicato che ha accettato come missione di garantire non il cambiamento ma la continuità funzione di garanzia del tutto legittima pensate bene a quello che state facendo è un errore presentarsi con il cappello in mano nelle sedi europee a chiedere clemenze su regole di bilancio quando questa clemenza fa comodo non a noi ma a loro all'italia occorrerebbe un buon avvocato che chiedesse all'europa di rifonderci i danni per aver osservato regole assurde invece di tenere un atteggiamento supino e subalterno anche antonio maria rinaldi in collegamento con mirta merlino all'aria che tira sulla sette pare confermare la mia impressione questo è quanto ha detto ringrazio formalmente il presidente della repubblica che ha detto di rivedere completamente le regole del patto di stabilità mi ha riempito il cuore di gioia il suo appello è stato però disatteso dalle cancellerie europee e dubito che questo governo con il ministro roberto gualtieri possa modificare il fiscal compact visto che è stato tra quelli che lo hanno approvato la nostra giornata si conclude sempre al senato segnalando una curiosità d'effetto è stato un momento in cui la bella senatrice e dico bella perché siamo abituati a vedere ben altre fisionomie in parlamento dicevo la bella senatrice della lega lucia borgonzoni si è tolta la giacca e ha mostrato una maglietta contro il pd sui fatti di bibiano suscitando gli applausi dei colleghi leghisti e la sospensione dell'aula questo clima battagliero ed entusiasta preannuncia una dura lotta nelle sedi parlamentari soprattutto se si proverà a fare qualcosa a danno dei cittadini questo è quanto ha promesso salvini carissimi amici se volete scavare assieme a noi nelle losche trame dell'elite ai nostri danni iscrivetevi numerosi al canale youtube dentro la notizia aiutateci a crescere condividendo i video e se desiderate che teniamo un faro puntato sulla situazione in italia e in europa sosteneteci con una donazione nell'interesse di tutti e del vostro un abbraccio dal vostro roby